siamo col team manager de santis seconda sconfitta su due partite ma avete cominciato bene anche in vantaggio poi cosa vi è mancato è mancato che questa è una squadra molto giovane noi abbiamo messo un preventivo che pagheremo lo scotto delle prime partite però è normale che fuori io con il direttore sportivo stiamo lavorando perché anche oggi abbiamo visto che ci sono dei punti del campo che hanno lasciato a desiderare soprattutto la difesa perché in questo gioco lasciare tutto questo spazio ti fanno male perché abbiamo concesso e poi 45 opportunità dove poi la squadra davanti ha espresso come la prima partita anche un buon gioco però purtroppo sia il calciotto che il calcio ci insegna che ha ragione chi fa gol e abbiamo le difficoltà nella parte offensiva e difficoltà dietro però sono fiducioso perché sono tanti giovani si può lavorare qualche giocatore deve tornare ma ce la fa tornare per la bella partita che vi aspetta lunedì contro il tottiwiz che una delle squadre favorite insomma lo sappiamo di questo torneo sembra una bellissima partita sarà una bella serata certo cercheremo di fare qualche cosina di più però come ripeto tale era impreventivo che le prime partite è una squadra nuova giovane c'erano delle difficoltà oggi io dico sempre quello che penso sono un po arrabbiato oggi perché ho visto troppi errori grossolani e mi dispiace perché poi dopo i ragazzi si impegnano per carità non è che c'è qualche giocatore che si ferma però hanno espresso dei momenti della partita ecco ci vuole un po più di esperienza grazie